50 anni fa, il primo dicembre del 1970, l'Italia approvò la legge sul divorzio. Lo scioglimento del matrimonio non era infatti contemplato nel codice civile fascista del 1942. Ci volevano quasi 30 anni per separarsi da questa scelta, dettata dall'influenza della Chiesa. I divorzi nel primo anno di applicazione della legge furono 17.134. Raddoppiarono un anno dopo 31.717 per poi diminuire gradualmente negli anni successivi. Secondo l'Istat, fra il 1991 ed il 2018 si è assistito a un vero e proprio boom dei divorzi in Italia. Basti pensare che nel 1991 i divorziati erano quasi 400.000, ma nel giro di un quarto di secolo sono lievitati, superando quota 1.600.000. L'introduzione in ulteriori facilitazioni alle separazioni nel 2014 ha comportato una crescita che ha riguardato per lo più i divorzi e soprattutto quelli consensuali. Tra il 2014 e il 2015 i divorzi sono passati a circa 50.000 l'anno a oltre 80.000, per poi raggiungere i 99.000 nell'anno seguente. Dati molto ridotti però se rapportati al resto d'Europa. Secondo Eurostat, in Italia si divorzia poco. Dagli ultimi dati, ogni 1.000 abitanti in Italia divorzia un cittadino e mezzo, decisamente meno del valore medio UE di 1,9. Ma se siamo tra i Vesi con meno divorzi per abitante, siamo tra i primi 5 nell'AUE per divorzi per numero di matrimoni, ben 47,9. In pratica, un matrimonio su due in Italia non rispetta il finché morte non vi separi.